ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda tadaa pink panda cosa ho mai preso da pink panda cosa potevo non prendere da pink panda ho fatto un acquisto lo stavo per scartare ma ho pensato devo fare subito il video perché mi è arrivato poco fa allora cosa ho preso da pink panda me lo sto chiedendo anch'io perché non me lo ricordo allora già sto vedendo due cose molto molto carine che sono da me ho preso due spugnette della real techniques e sono miracle complexion sponge per fondotinta e bb cream e ho preso color azzurro cenere azzurro e un rosa baby bellissimo sono bellissime sono morbidissime perché io con le spugnette di real techniques mi trovo benissimo sono molto molto morbide queste li bagnate diventano grandi e mi piace mi piace proprio poi questo colore troppo troppo bello anche rosa perché no non ce l'ho di questo colore non ce l'ho quindi la dovevo prendere e ho preso queste due aspettate che vi dico quanto è costato il tutto le spugnette sono costate 7 euro e 0,1 centesimo allora vi stavo dicendo che le spugnette sono costate 7 euro e 0,1 centesimo allora le spugnette costavano 8 euro e 99 centesimo io le ho pagate 7 euro e c'era poi un supplemento di sconto sempre per quanto riguarda l'ordine effettivo che ho fatto poi ho preso questa qui che è una crema sinceramente mi ha mi ha tratto tantissimo il packaging perché è molto molto bella e la voglio provare per vedere come mi trovo ed è all'argane vitamina e ha 50 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi ed è una crema illuminante qui c'è messo quindi proviamola e questa l'ho pagata vediamo un po' che è la una crema viso 3 euro e 99 costava invece 9 euro e 99 quindi uno sconto abbastanza grande poi ho preso questo che è un fasil oil quindi un olio per il viso ed è alla vitamina e argane oil e olive oil c'è scritto così pure beauty è la marca e il prodotto si trova così come il primer di revolution sinceramente mi ha incuriosito e quindi l'ho voluto prendere questo qui l'olio ed è un olio per il viso costava 12 euro e 99 e io l'ho pagato 3 euro e 99 poi andiamo avanti ho preso una pinzetta perché sinceramente le pinzette servono sempre mi piaceva tantissimo la punta sembra sembra uguale a quella che ho io e quindi l'ho voluta prendere di scorta e questa qui me la metterò nella borsetta o tipo dentro il portafoglio perché sinceramente capita che quando sei fuori o hai qualcosa oppure certe volte capita ai miei figli che hanno un pelo incarnito sinceramente e gli da troppo fastidio e quindi lo devono togliere subito quindi è buono che si utilizzi e si mette nella borsetta e la pinzetta costava 4 euro e 99 e io l'ho pagata 2 euro quindi ottima ottima veramente poi abbiamo finito i pezzi piccoli sì poi c'era questa qui poi c'è la bag to school e non c'è nient'altro sì non c'è nient'altro allora ho preso ho fatto l'ordine proprio per prendere queste due cosucce e sono due palettine e sono queste due palette di Catrice sono queste io ho visto lo so che non dovevo non dovevo vederlo ho visto un video di Giulia Cova dove ne provava una e si è trovata benissimo quindi io ho detto bene devo prendere una ma perché una e ma sicuro che devo prendere una ne ho preso tutte e due sono bellissime e queste palettine sono costate 13 euro e 99 e poi c'è stato quello sconto perché ho fatto anche l'ordine allora vi faccio vedere le palettine questa è la Sunshine Hit Me Up ha un bellissimo specchio devo dire che è molto molto bello questo specchio è abbastanza grande e gli ombretti sono questi qua bellissimi specialmente i verdi mi piacciono tantissimo non vedo l'ora di utilizzarle sicuramente vi farò un make up proprio per quanto riguarda questa palettina devo dire che è molto molto bella molto molto bella i colori mi piacciono mi piacciono veramente tanto quindi non vedo l'ora di utilizzarle non vi faccio gli swatch perché dovrete poi vedere il video dove lo utilizzerò quindi poi vi farò anche delle foto o un mini video dove vi farò vedere gli swatch e lo metterò su Instagram quindi se volete seguitemi 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 tutti quanti su Instagram poi la seconda che ho preso è la reach up for the sunrise no tipo catrice 1 catrice 1 no catrice 1 catrice 1 comunque ed è la warm tones questa è la neutral tones questa è la warm tones lasciate perdere qui non ce l'ha ah si ce l'ha la pellicola infatti ho detto ma non ce l'ha la pellicola qua e questi sono gli altri colori sinceramente mi piace di più quella infatti questa non so se la utilizzerò ma non si sa mai questi sono i colori devo dire che sono bellissimi veramente molto molto belli e se non avete visto il video di Giulia Cova vi consiglio di andare a vedere e di vedere proprio come lei l'ha utilizzata e sinceramente mi sono letteralmente innamorata non lo so se la utilizzo non lo so non lo so sinceramente non lo so comunque ho preso queste due e sono fantastiche veramente fantastiche devo dire che è un bel po' che non compro qualcosa di catrice quindi visto che sono dei brand abbastanza low cost è giusto anche utilizzarle poi andiamo ad aprire prendiamo la forbice e andiamo ad aprire la mystery bag di questa non so se non lo so quando escono escono a settimana o a mese non lo so comunque qui c'è la mystery bag entriamo la mano e c'è qualcosa che esce ed è pesante che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è allora scerta la carta scerta la carta allora andiamo a noi e ho trovato questo sempre della marca che ho preso io vero? sì questo che carino questo è fresh start oil infused mousse è una mousse oddio lo devo leggere cosa c'è scritto e tutto non è che si capisce forse è una mousse per il corpo in caso poi vi scriverò quello che a cosa serve non la apro nel senso non la utilizzo non puccio niente perché prima voglio sapere che cosa serve perché se è una cosa che io non utilizzo non la tocco così da non rovinarla aspettate un minuto andiamo a vedere pucciare la manina qui dentro e prendiamo questo ah visto questo io lo utilizzo che bello sono tutti della marca non mi piacciono queste cose questo è un dispenser per mettere lo spazzolino e io questi li avevo acquistati trasparenti e li ho dati ai miei figli quando sono andati in vacanza questi sono molto molto utili quindi questo vedrò di o di conservarlo oppure lo metterò in qualche giveaway o concorso ma vi do uno spoiler saranno quelle che sono più attive nel mandare messaggi sotto i miei video poi chi vuol capire capisce andiamo a pucciare l'altra mano ah un'altra palettina questa già se mi sbaglio l'ho ricevuta però non lo so se è la stessa colorazione di questa non mi ricordo se è di questa marca ed è una palettina ah queste sono blush e illuminanti ah sono carini dai di I love revolution sono questi vediamo ve li faccio vedere senza la scatola però non li apro ovviamente perché io non per l'illuminante e tutto faccio una specie di selezione e quindi non mi va di aprire cose che sono sicura al 100% non utilizzerei ve lo faccio vedere così tramite la confezione spero che si veda bene e sono questi sono molto molto belli dai molto molto belli poi vediamo cos'altro ci offre il back to school c'è qualcos'altro no vuoto e l'ultima cosa che ci regala è una maschera idratante shine ed è questa una maschera semplicissima e tutto beh insomma ci ha dato queste quattro cosucce erano quattro no queste le ho comprata io ah qua quattro cosucce questi sono quelli che ho trovato nella mystery bag insomma 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 poi ovviamente dipende anche il prezzo che hanno questi comunque questo è tutto quello che riguarda pink panda ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto io ve lo dico ve lo dico proprio sinceramente in base a quello che diciamo all'attività di messaggi che voi mandate io premerò alcune persone quindi non farò dei giveaway tipo scritti nel titolo ma direttamente prenderò un video a caso e selezionerò i messaggi diciamo la persona che mi scrive più commenti sia per quanto riguarda un video due video tre video eccetera eccetera quindi quella più attiva e sarà attaccato anche per quanto riguarda instagram ho fatto il decluttering che poi vi metterò o forse già l'ho messo non lo so assolutamente in questo periodo non c'è un po' di cose da fare perché ho fatto quattro sacchetti per quanto riguarda le cose da dare le cose che già sono state utilizzate ma che voglio dare e delle cose che sono nuove intatte che voglio regalare allora ragazzi e ragazzi per quanto riguarda questo video è tutto a me piace il sito pinkpanda sinceramente mi ci trovo bene poi in più ti fai il regalino e quindi ci sta al bacio per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao